bella ragazzi benvenuti a questo nuovo video io sono pochi e oggi siamo trovati qua su mlp anche le games stavolta la sfida sarà tra la sfida di oggi sarà sarà tra iphone e gli altri ovvero ovvero draghi mutanti a rifoni eccetera allora cominciamo per 171 abbiamo tra la sparco e stalla trimmer di 72 rarity e rainbow dash di sette pinkie pie apple jack di setto 4 così la ue sweety bell risetto 5 scudolù e caramell risetto 6 lira e bonbon risetto se l'host dire e queen chrysalis rispettivamente un centauro e una mutante risetto 8 discord e angel rispettivamente un da con un draconecus e un coni e un coniglio risetto 9 gilda e spike ovvero ovvero un rifone e un drago risetto 10 cranchi e iron will un asino e un minotauro risetto 11 zercora e harry che sarebbero una zebra e un orso risetto 12 winona e bisette risetto effettivamente un cane e una fuoco fatto con le ali non so neanche che cosa si vabbè no è no è una è una livello è una livello la vabbè comunque iniziamo ovviamente attiva la soluzione italiana perché altrimenti non si capisce niente allora il bagno di sangue vendite bucci saranno stando sui loro poli il corno suona stare streamer spendere una macete di coltelli d'arancio eri scappa insieme a scottalù lila zecora gilda sulle sparcon qui nona rainbow dash lo stile che la legina chrysalis vizet disco del pinkie pie sui ti belle bonbon combattono più una borsa sui ti bel salendo e si ritira ero will a fare uno zaino non rendendosi conto che è vuoto caramel così me l'ha tradotto mettendo la s apple jack rarity condivido tutto saccando una cosa fino a ricorrere angel a fare una spada esattamente come spike vabbè spike a fare una spada per fare per dimostrare di essere un cavaliere davanti agli occhi di rarity mentre angel non so perché vabbè giorno 1 bonbon spinge la regina chrysalis giuro a scogliere avvento combattimento con i coltelli cavolo disco spugnale rifiutamente angel a mostre con i size adesso fratte sceglie adesso fratte sceglie non è più tua amica disco gilda sente subiti bellezza e ancora parlare lontananza di che cosa parlano e cosa parlano delle pozzoni delle pozzoni delle pozzoni che servono per ottenere cutie mark ah no vabbè che l'hanno già vabbè che l'hanno detenute cutie mark vabbè b16 c'è il tipo fresco da uno spazio sconosciuto si vabbè dal villaggio dei business apple jack rarity vi ha acquisito da uno spazio sconosciuto che ha dato è l'ha data apple bloom rarity rainbow dash impraspoteva di ucciderla lei è giusto mandando di vita rainbow dash per meno male meno male che non le uccidere meno male stava stava per uccidere la sua stava per uccidere la sua idola torres parkour si ferisce a caso la la vita spaventa lo stile come fa spaventare come fa la vita spaventare lo stile che ne so che ne so che ne so fa una magia con nessun icono diventando che ne so diventando qualcosa che le faccia paura accogliente bagliore cerca di lanciare il pesce con un tridente il reta irritabile il rita avesse essenzialmente una mina qui non impiora iron will di ucciderla si giusta ma danni vita o in ora no vabbè lila fa una fionda e ricerca legna da ardere come faccio a carina da ardere deve cercare il miele dato che un orso vabbè caramela colpisce più volte potesse risparre contro una roccia sarà il clima e scopre un fiume per chi faccia calende da ardere molto bene si procede allora sono morti si sentono qua sono morti regina chrysalis angelo chi è angelo vabbè cranchi e spuntone vabbè l'ira caramela subiti bene lo stile che dormono a torni il fatto è che lo stile che costringe le altre anzi gli altri a dargli il sopra a dargli il turno per dormire altrimenti altrimenti lì altrimenti risucchia le loro anime zekona comincia era un mila non ucciderla solo per ucciderlo invece si va bene si va bene la uccisa sono di porzioni rai si sconfigge discord in un combattimento ma gli risparmia la vita mamma a quindi praticamente ha fatto il contrario di della prova che appunto di scoda ha fatto fare le men six cioè non è cioè non è stata soggiogata dal suo potere ma ha fatto il contrario vabbè style scream e si arrampica suonabile per riposare si arrampica si arrampica puoi stare benissimo il soccone a teletrasportarsi lino vabbè blizzard e bonbon si incontra nel cine di una te e di cine di una tequa per la notte toalla e sparcole per il campo per la notte gilda guarda il cielo notturno pensando pensando alla sua amicizia con rainbow dash vinona nel radio di cine di fuoco e dorme senza calore e me ci vedo quando mai si è visto un cane accendere un fuoco scusa lupi si fai apple già cantare veramente le canzoni insieme si va si vabbè vabbè rainbow dash lascia Harry nel suo rifugio molto bene così lo guarda il cielo notturno si vabbè insieme a gilda giordo due tra le sparco e spaventa l'ira radic esplora l'alena l'alena lo stile che finisce veramente lui nona ma la mette fuori dalla sua miseria caramere scappa da scutalù beh però mi sembra no 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 vabbè vabbè no gilda raccoglie i fiori apple jack e bonbon cercano altri tributi così lo spaventa sweet bell beh beh la sua natura manipolatrice ci fa sentire anche negli angli games dato che appunto prima prima lavoravano insieme così così lo è sweet bell e poi e poi e poi e poi e poi così l'ho tradita disco cerco una fonte d'acqua star screen sente Harry finché fa parlare in lontananza non capisco come faccio un orso a parlare vabbè rainbow nash spaventa zecora off vabbè bz viene il punto delle spine mentre cogliere le bacche vabbè 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 quasi mi sembrava ovvio perchè appunto zecora non è semplice non è soltanto brava a creare pozioni ma ma ha anche delle anche delle erbe curative lì nella sua casa dell'erbe free forest star screen ma l'ordine che l'idea scuta l'u l'intercino eccitino bz ma ce l'ho voluto in quattro per ammazzarlo allora terzo giorno tu hai il sparco per il fumo c'è di lontananza ma c'è di non indagare buon mo dice me acqua poi c'è uno spot sconosciuto zecora sconfiggeremmo adaci non combattimè oh ma ma tu ma c'è proprio proprio questo episodio è ricco è ricco di tradimenti oh ah no le risparmio la vita quindi meno male gente acquisisce una baracca raditi in prova scuola l'u di ucciderla le le dici tutte ma tende vita raditi allora allora c'è prima la fattore e morash è poi la fattora raditi c'è ma c'è ma perchè e poi già a cercare di fissare il pesce con un tridente lì la insegue così low beh perchè appunto anche lei abbia sentito parlare della dell'attacco dell'attacco di così low alla scuola di amicizia dalle primari c'è un recente non smette sconosciuto che si sa che gliel'ha dato forse uno il suo villaggio pinkie pie pinkie pie costringe lo stile a uccidere caramello discordia si rifiuta di uccidere quindi pinkie pie lo uccide invece si rifiuta di uccidere chi vabbè fatto sta che pinkie pie ha ucciso lo stile ma non non capisco come abbia fatto dolei saltelle quindi non lì subito i pelli viene pulito dalle sfide mentre la quale le bacche Henry dice il cibo fresco una spazia sconosciuta si il cibo fresco il cibo fresco e il miele e il miele non non lo so che gliel'ha dato però perchè non lo so vabbè comunque sono morti blizzet e lo stile andiamo avanti caramelli dicevi acqua pulita dicevi acqua pulita una spazia sconosciuta disco dicevi cibo fresco una spazia sconosciuta si li ha dato flatte scai con le sparcole accendo un fuoco rariti qua di cielo notturno bonbon mormona piano Erre resta sveglio tutta la notte beh appunto dato che appunto lì dato che appunto lì è estate è estate quindi gli ossi non vanno in letargo appunto lì la pensa a casa Applejack pensa a casa cioè tutti le pensano a casa scusate lui Gilder Wittiberg canta leggermente canzoni insieme se il cuore le spinge così glos sale a tremere picchi pan dentro il nostro fuoco Rainbow Dash diceva acqua pulite non spazio non spazio sconosciuto vabbè sì certo gli hanno dati i wonderbolts fans vabbè allora quattro giorno c'è vabbè 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 meno male che appunto non è stata così non è stata così l'ho uccida subito però il fatto che appunto Dora e Sparkle abbia ucciso Scutaloo mi porta a Dora e Sparkle implora Scutaloo di ucciderla lei rifiuta lei rifiuta no lei rifiuta e Dora e Sparkle la uccide Applejack ce l'ha coprita da spazio sconosciuto oh quante cose ti invia a fatti gli dolci miele oh comunque lei ti diceva le attenzioni principali e fugge bonbon a coltella ripetutamente Harry a morte con i size maaa cosi rose stelle di caramello Lira pensa a casa e Zecola vacaccia vacaccia di erbe per le sepozioni andiamo avanti sono morti Sweetiebell Scutaloo Gilda Harry bonbon ringrazio cedere un fuoco e dorme senza calore salad climber cosi clou rainbow dash caramelle tuele sparco dormono attorni Zecola si prende a cura delle sue ferite Radity comincia a dis a nascarsi con lei si va bene adesso ci vabbè adesso ci prova adesso ci prova Radity in assenza di Flattesha Lira cerca di cantare Lira cerca di cantare se stessa per dormire beh certo che invece sta appunto cantando appuntando questo simbolo è una Lira se l'è portata se l'è portata se l'è portata appresso finchina piange fino a dormire Applejack rimane sveglio tutta la notte perchè pure Applejack è un maschio scusate mi sono dimenticato di cambiare di cambiare il sesso quinto giorno salis creamer così c'è una baracca Così gloria c'è fra di tu le mediche da uno spazio sconosciuto si vabbè o gli ha dato T-rex oppure gli ha dato Winchry Salis dato che appunto erano alleati quindi poi c'è un tipo che da uno spazio sconosciuto Discord spaventa Toilet e qua c'è che cosa fece l'ha fatto già l'impietro Bonbon Gambi Caramel Rally ti vuole per ipotermia non si potrebbe creare l'acqua col suo corno vabbò Rainbow Dash viaggio su un terreno più elevato vabbè mi sembra beh mi sembra anche facile per lei dato che appunto le ali sta volare velocemente Zercole c'è la calenda da aldere Lira Mangi consapevolemente bacche tossiche Applejack va a caccia sono morte Rally 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 che sarebbe Rally e Lira ok andiamo avanti Notte 5 Caramel sconfiggia con siglone in combattimento ma ne risparmia la vita Zercole uccide Pinky Pie con la stessa arma Applejack piange fino a dormire Rainbow Dash come si vede quella del fetich di Tuala Sparkour beh beh tra amiche o meglio tra migliore amiche ci si cura vicenda SilentCream SilentCream tende al Discord ferites vabbè penso che sia SilentCream tende le ferite di Discord e e andiamo avanti la festa la conuncola viene riempita viene riempita con cibo sprovviste al memoria da un po' di e e e da notare che appunto prima l'ha scritto giusto cosi e poi successivamente l'ha rimesso cosi con la s l'ha e l'ha e l'ha e l'ha e l'ha e l'ha e poi se un albero cade morendo beh mi sembra mi sembra anche giusto perchè appunto beh mi sembra anche logico perchè appunto lei appunto lei scuote gli alberi per far cadere le mere Pinky allora vabbè sono morte anzi morti per i pali tra le sparco rainbow dash di scuola sarebbe rimane a apple jack quindi sarebbero quindi quasi tutte le mini 6 all'ideazione di frattershy bonbon zaccone e caramelo con telecommente canzoni insieme mentre così trova a dormire settimo giorno mamma fa una fionda zaccone fuggito un albero caramelo riesce a decidere che cosa le circostante si suicida vabbè almeno almeno aggiungi apple jack così lo scopri una grotta a caso uno tsunami arriva nell'arena bombone zaccone sbatte le loro teste mentre tramite avvicina lasciandoli morire a negare entrambi quindi ragazzi sono morti caramello bombone zaccone quindi ragazzi la vincitrice la vincitrice degli mlp angoli games poni e contro altri e così però rispettivamente un po lì che un po lì quindi possiamo riappertare che i vincitori sono i poni bene ragazzi gli anticipo già che la prossima che la prossima puntata sarà l'ultima e si vede e vedanno sfidarsi vi faccio un piccolo spoiler per non sfidarsi i poni di terra gli unicorni e i pegasus quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo ci vediamo ad un prossimo video ciao